Ragazzi non ha senso, ora non ho più un computer da gaming, ho un'astronave! Salve, oggi sono particolarmente euforico perché qui dentro c'è quella che attualmente è la scheda grafica più potente al mondo E quindi senza indugio andiamo subito a vedere di cosa si tratta Apriamo qua, tiriamo fuori il malloppo Signori, la nuova Nvidia GeForce RTX 4090 Siete pronti? Olè! Che spettacolo e che bestiona Qua dentro è concentrato il top del top della tecnologia di Nvidia Sia dal punto di vista fisico, di hardware, di costruzione Dai transistor a tutti i componenti che poi permettono di avere l'effettiva potenza di calcolo Ma soprattutto anche tutto il discorso di software, algoritmi, intelligenza artificiale Che permettono a questa 4090 di far volare qualsiasi computer Ora, questo non è un canale specifico a tema computer, hardware e cose varie Se cercate tutti i benchmark specifici e tutte le spiegazioni super tecniche Andate a vedervi video dei Prodigic, del mio amico Blink Che sicuramente avranno spiegazioni più complete Quello che vorrei fare oggi però, oltre a testarla e metterla alla prova su dei videogiochi E su delle applicazioni reali E raccontarvi per bene la tecnologia che c'è dietro una scheda video del genere Come funziona e come poi alla fine si riesce a magicamente giocare in 4k a 120 fps ai vostri giochi preferiti Tutti pensano solamente alla potenza, al buttare la scheda grafica dentro il computer Ma dietro a questi giocattolini c'è un mondo di roba interessante Bene, 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 bene Guardate che bella, super pulita Questa ovviamente è la Founders Edition È in realtà praticamente uguale alle 3090 dal punto di vista estetico Ma mi fa veramente impazzire Guardate il dettaglio delle griglie di dissipazione che bello che è Non che sia così importante l'estetica di una scheda video che poi va dentro un computer Però è dannatamente sexy Adesso trovo il modo di farla funzionare Bene, è passato qualche giorno Come vedete la scheda è già incastonata all'interno del mio magnifico computer da gaming Ho mandato in pensione la vecchia 3070 Ti Che resta comunque una gran scheda Come del resto le 3080 e le 3090 Tra l'altro a proposito di schede ma non solo Oggi 11 ottobre e domani 12 ottobre C'è l'Amazon Prime Day Quindi un sacco di offerte, sconti e quant'altro Se non volete perdervi le migliori occasioni Tra cui tante schede video Vi ricordo che ci sono tutti i canali Telegram di Offerte e Offerte Dale Link qua sotto in descrizione Andate a dargli un occhio perché ci sono delle cose veramente veramente interessanti Da non farsi scappare Ad ogni modo 4.090 L'ho già testata ed è un qualcosa di incredibile Ma andiamo con molto ordine Anzitutto per chi si fosse perso qualcosa Le due componenti più importanti all'interno di un computer sono la CPU e la GPU La CPU è il processore Che fa tutti i calcoli più complessi per far andare avanti la baracca La GPU è la Graphic Processing Unit E si occupa nello specifico di trasformare Quelle che sono le informazioni di quello che poi si vuole riprodurre Che sia un video o in un videogioco In un insieme di punti Dire fisicamente ai pixel dello schermo Se accendersi o no e di che colore Per poi andare a creare un'immagine Inizialmente tutte queste cose venivano fatte da un unico processore Che aveva integrato anche un'unità grafica Poi si è iniziata a usare schede video esterne All'inizio erano piccoline Poi sempre più grosse Adesso la scheda video è grande come metà del computer Ora questa 4.090 di Nvidia Rispetto alle schede precedenti Anzitutto ho tutta una nuova architettura Quindi fisicamente è fatta proprio in maniera diversa Hanno chiamato questa architettura ADA In onore della matematica ADA Lovelace Che tra l'altro è stata la prima programmatrice al mondo Anche se c'è un po' di disambiguità rispetto a questo tema Ma questa è un'altra storia che magari un giorno vi racconterò Abbiamo 76 miliardi di transistor E un nuovo processo produttivo a 4 nanometri Per intenderci lo stesso che viene utilizzato per gli iPhone Fatto dai nostri amici di Taiwan 24 giga gdb... Ve lo scrivo qua di memoria video E 16384 CUDA Core Che sembra un numerone È a tutti gli effetti un numerone Ma poi cosa diamine sono questi CUDA Core? Molto semplicemente sono le unità di cui è fatta la scheda video Come un processore è fatto da vari core che fanno vari calcoli Di solito sono 2, 4, 8, 16, 32 massimo Nella scheda grafica invece sono tantissimi Perché a differenza di un processore bisogna fare non calcoli complessissimi Ma bisogna farne una valanga Qualsiasi immagine di un videogioco è fatta da tanti piccoli triangolini Che vanno appunto triangolati nello spazio E alla fine sono tanti calcoli di terza media Fatti però a miliardi di miliardi al secondo Tipo... Pensate che ormai strutturalmente proprio l'architettura di una scheda video Ha delle parti specifiche per processare i triangoli E tutto quello che è shader diciamo Altre parti specifiche per tutto quello che è il ray tracing Quindi la gestione della luce E altre parti ancora per tutto il discorso intelligenza artificiale Noi ci immaginiamo sempre tutto come un qualcosa di astratto Che sia un programma, un algoritmo o qualsiasi altra cosa In realtà poi parliamo di transistor Di pezzi di silicio, rame e qualsiasi altro tipo di metallo Che sono in grado di eseguire proprio delle operazioni Questa cosa è super affascinante Perché si è spento? Ok è vivo Comunque non abbiamo parlato di consumo Lei ciuccia fino a 450 watt E ha tutto un sistema nuovo di alimentazione Infatti sfrutta lo standard PCI Express 5.0 C'è questo connettore a 12 pin Con degli altri pin che mettono in comunicazione la scheda video con l'alimentatore Quindi la scheda video dice Ehi mi serve più elettricità L'alimentatore dice ok te la posso dare Oppure non te la posso dare Per evitare che salti in aria tutto In confezione viene dato questo adattatore Che permette di collegare fino a 4 cavi di alimentazione Se no i nuovi alimentatori hanno già i nuovi cavi che riescono ad arrivare fino a 600 watt Quindi basta e avanza Poi si si può overclockare farla andare ancora di più di più di più di più Ma non guardate me non lo farò La tengo qui tranquilla al sicuro Due giorni dopo Milano in fiamme Youtuber brucia lo studio Mentre sul retro abbiamo l'HDMI 2.1 e 3 displayport 1.4 Facciamo però un passo indietro Per videogiocare servono tre cose principalmente La risoluzione nel senso che più è nitida l'immagine e meglio è tendenzialmente Gli fps perché se vedi un'immagine a scatti è un disastro E ultima ma non per importanza la latenza Ora la sfida di ogni scheda video è riuscire ad avere una risoluzione più alta possibile Avendo comunque degli fps più alti possibili e avendo una latenza più bassa possibile Come fa questa 4090 a farlo? Ha assolutamente un sacco di potenza nuda e cruda Ma è dotata anche di questo nuovo DLSS3 Che sta per Deep Learning Super Sampling Spiegato in modo molto semplice Con l'intelligenza artificiale si riesce a moltiplicare la potenza nuda e cruda della scheda Principalmente grazie a tre cose La prima che in realtà era già stata introdotta nei modelli precedenti E che permette alla scheda video di renderizzare un'immagine a bassa risoluzione E con l'intelligenza artificiale fare un upscaling Quindi banalmente riesco ad avere maggiore risoluzione gratis Seconda che va a migliorare la latenza La tecnologia Reflex Che in brevissimo permette al processore e alla scheda video di parlare e di fare più cose velocemente E terza cosa che è veramente geniale come approccio La generazione vera e propria dal nulla di nuovi frame Quindi se io ho un gioco che sta andando a 30 frame al secondo In automatico l'intelligenza artificiale prende il frame 1, prende il frame 2 E ci costruisce un frame in mezzo che è a metà tra il frame 1 e il frame 2 E la cosa pazzesca è che se si vanno ad analizzare i singoli frame Sono indistinguibili Queste sono tre immagini di tre frame Solamente uno è autogenerato Sapete dire qual è? Io sinceramente no Per farvi capire quanto è potente questo nuovo DLSS Guardate adesso non è attivo Siamo su Cyberpunk qua abbiamo gli FPS e siamo più o meno stabili attorno ai 40, 41, 39 FPS Qualcosa del genere Siamo ovviamente in 4K con tutte le impostazioni al massimo Un sacco di luci, un sacco di cose da gestire Si comporta alla grande perché è potentissima la scheda grafica Ma guardate cosa succede se attivo il DLSS Quindi impostazioni, grafica, Nvidia DLSS attiviamo Vedete che possiamo decidere se attivare la frame generation oppure no La super resolution quindi l'upscaling dell'immagine Si può decidere se lasciare in automatico, disattivare Oppure se puntare alla qualità o alla performance Lasciamo automatico E poi si può regolare la sharpness E guardate come cambia la storia Stesso posto, stesse cose Ma siamo a 134 FPS, 132, 131 Utilizzando addirittura meno la GPU Perché siamo al 95% e prima eravamo attorno al 98% Assurda questa cosa Formula 1 bagnato, DLSS attivo Siamo a 114, 113 FPS Non, non, non male Premendo Alt Z si apre la GeForce Experience Per registrare o fare live o fare anche solo screenshot E possiamo anche andare a vedere le prestazioni in tempo reale Come vedete la scheda si è sotto sforzo Ma è di gran lunga lontana dallo sforzo massimo Tra l'altro vi faccio vedere Dal pannello della GeForce Experience Ho tutti i giochi e applicazioni E posso andare a vedere tutti i dettagli E a ottimizzare le prestazioni Insomma la cosa interessante è che non sono tecnologie sopportate da uno o due giochi NVIDIA ha già annunciato un sacco di giochi e applicazioni di vario tipo E quindi si potrà veramente sfruttare a pieno la potenza di questa piccolina È veramente incredibile vedere la differenza tra questo DLSS attivo e non attivo Si passa dall'andare a 60 fps a 120 Ovviamente perché vengono praticamente raddoppiati gli fps Tutto questo è sicuramente figo per il videogiocatore più o meno amatoriale Che ha il suo studio con magari un monitor più grande di questo Pensate al nuovo Samsung Arc che è decisamente un bestione Per dire simulatori di guida o chissà che altro Sono invece cose che fanno la differenza magari tra una vittoria e una sconfitta Per tutti coloro che lavorano come giocatori professionisti Ed è assurdo vedere come nel mondo dell'eSport La macchina che tu utilizzi è praticamente come una macchina di Formula 1 per un pilota E quindi avere un miglioramento anche solo minimo di qualsiasi prestazione è assurdo Altra tecnologia interessantissima che esisteva già ma è stata ulteriormente migliorata e potenziata L'RTX, il Ray Tracing È molto più complesso di come ve lo spiego adesso Però cercando di semplificare il più possibile parliamo di gestione di riflessi e luci all'interno appunto di un ambiente virtuale Che sia un videogioco o qualsiasi altra cosa Se c'è una fonte di luce e poi magari dell'acqua piuttosto che qualcosa specchiato Nel videogioco ci sono fisicamente le informazioni che dicono da dove arriva la luce E di che materiale sono fatte le varie superfici, quanto riflettono, quanto non riflettono La scheda grafica poi deve fisicamente mettere a posto tutto e tirar fuori un'immagine Se la luce arriva da lì e rimbalza qua poi andrà a finire di qua Ma se poi qua rimbalza ancora, insomma deve fare mille mila miliardi di calcoli Grazie ai nuovi reti core questi calcoli vengono fatti col doppio dell'efficienza E in più c'è un vero e proprio shader execution reordering Quindi invece che calcolare ogni singolo raggio di luce dove va a finire, dove rimbalza, di qua, di là, di su e di giù Vengono fatti tanti calcoli in parallelo della scena e poi piano piano si arriva alla scena finale Ci avete capito qualcosa? Il concetto è che vengono fatti molti più calcoli in maniera molto più efficiente E poi vengono riordinate tutte le informazioni per avere poi una scena dove fisicamente la luce si comporta nel modo giusto E vi garantisco che quando si prova un gioco con l'RTX è impossibile giocarci poi senza Perché è tutto un altro tipo di esperienza Vedi i riflessi, le esplosioni, poi dipende ovviamente dal tipo di gioco Però è incredibile E fa ridere perché in questo caso stiamo andando a 210 fps Non ha senso proprio Tra l'altro a proposito di ciò Qualche anno fa aveva fatto scalpore Era stata una cosa fighissima quando avevano aggiunto Minecraft in RTX Quindi Minecraft finalmente con una grafica vera e propria diciamo Quello che hanno fatto quest'anno è un qualcosa di ancora più interessante per quanto mi riguarda Perché con RTX Remix sostanzialmente si potranno rimasterizzare giochi vecchi Andando a modernizzarli a 360 gradi Dalle texture di tutti i materiali appunto la luce, il comportamento, tutti i riflessi Fondamentalmente ci sono questi strumenti dove dal gioco vecchio si possono importare oggetti, ambienti e luci Editare tutta la baracca e tirar fuori poi un gioco rimasterizzato Quindi per i modders questo strumento è potentissimo E per gli utenti finali poi c'è la possibilità di giocare a magari giochi che si è giocati nell'infanzia Ma con degli standard quasi all'altezza dei giorni nostri Hanno fatto vedere delle demo di Portal assurde Cioè se si vede la differenza con Portal prima e Portal rimodernizzato È un qualcosa senza alcun senso Stessa cosa per Morrowind Vedete come una scena può praticamente cambiare e riprendere vita Pensate anche per le nuove generazioni si possono tranquillamente riscoprire giochi vecchi Poi lo so che ci saranno i puristi che diranno Eh però il gioco era meglio giocare Va bene Allora giocatelo come lo giocavate prima Se uno lo vuole giocare meglio adesso può farlo Purtroppo non ho avuto modo ancora di provare questo remix Però vedremo sicuramente in futuro e vedremo anche quali giochi usciranno oltre a Portal Che uscirà nelle prossime settimane Quindi tutto bellissimo DLSS, Remix Ma oltre al gaming poi una scheda grafica serve a mille altre cose E quello che personalmente mi affascina è che tutte le tecnologie che apparentemente sembrano solo ludiche nei videogiochi Hanno poi infinite applicazioni nel mondo reale Adesso si sente spesso parlare di metaverso Fondamentalmente le nostre vite sono sempre di più attraverso uno schermo E tutto quello che passa attraverso uno schermo è necessario che sia processato da una GPU Che sia più o meno performante Se si vogliono fare cose sempre più grandi è solo grazie a macchine tipo questa che si riescono a fare Quindi oltre sicuramente al montaggio video con cui la 4090 è inutile che ve lo dico si comporta alla grande Soprattutto grazie al nuovo dual encoder AV1 Registrarli dallo schermo sia se bisogna ristreamarli Renderizzare, fare, disfare Purtroppo avendo solo la 4090 non ho grandi termini di paragone Andate sicuramente a vedervi i benchmark che si troveranno in rete Però insomma stiamo andando verso una direzione dove tutte queste tecnologie sono sempre più importanti L'intelligenza artificiale che viene utilizzata nel DLSS per fare l'upscaling di un'immagine O aggiungere frame tra frame del gioco non è la stessa cosa ma concettualmente lo stesso meccanismo Che serve per poter trasformare un video a bassa risoluzione in un video ad alta risoluzione Oppure per creare e computare un'immagine dal nulla Tra l'altro Nvidia ha proprio questo Omniverse Che è un vero e proprio ambiente di modellazione e progettazione 3D Anche un pochettino inquietante perché è veramente potente come strumento Proprio perché potenzialmente ormai si può creare un mondo con tutte le sue piccole caratteristiche E trasformare tutto quello che è reale in un oggetto 3D In un ambiente 3D Con poi mille mila vari strumenti Noi sentiamo parlare di metaverso, sentiamo parlare di eSport Vediamo i video, vediamo un sacco di cose Però alla fine della fiera c'è qualcuno che fa i calcoli per far sì che tutta questa baracca funzioni In questo caso questa 40-90 e lo fa egregiamente È fin troppo per una persona normale? Dipende dalle esigenze Non parliamo ovviamente di un prodotto per tutti Perché in Italia arriverà a 1979 euro Ovviamente bisogna anche considerare che l'euro ormai si sta svalutando E insomma siamo un po' sotto un ponte sotto questo punto di vista Quindi siamo destinati a prezzi che si alzeranno sempre di più Vista anche tutta la situazione Io sono veramente a bocca aperta, l'ho testata abbastanza in fretta Ma voglio sicuramente testarla Che è una scusa solo per dirvi che voglio giocare un po' Sicuramente la sfrutterò per il simulatore Magari chi lo sa un giorno mi troverete di nuovo a giocare Non lo so Ci vediamo però prossimamente con prossime cose Ciao ciao